La stagione balneare romagnola in generale e quella del comparto riminese in particolare vede un nutrito cartellone di eventi e nel 60% dei casi coinvolgono la fascia costiera o hanno addirittura comunque proprio come scenario di riferimento ambiti marittimi. Quindi se volessimo tracciare un bilancio dal punto di vista della sicurezza dell'estate appena trascorsa, come lo sintetizzerebbe? Le attività di soccorso che si sono registrate nel periodo estivo sono 26 gli interventi che hanno richiesto una risposta emergenziale di soccorso. Tradotto in termini di persone assistite, sono oltre 100 le persone assistite e in percentuale circa l'80% ha riguardato equipaggi di unità di porto. Ogni anno dobbiamo purtroppo dare la notizia di bagnanti, di decessi di bagnanti che avvengono anche sulle nostre coste. Ce ne vuole dare una panoramica? Sono circa 12 i casi che abbiamo registrato nel compartimento. Nella quasi totalità dei casi stiamo parlando di situazioni che hanno visto coinvolte persone della terza fascia di età e comunque di situazioni connesse a elementi di malessere o comunque di problematiche di questo genere.